Book2Net presenta il nuovo Book Sterilizer Pro. Sterilizza libri e oggetti in soli 30 secondi. Immagina. I microorganismi come virus, batteri e funghi possono accumularsi sui libri e diffondersi. Abbiamo una soluzione. Il Book Sterilizer Pro pulisce i tuoi libri in modo delicato ed efficace. La luce ultravioletta C è in grado di inattivare fino al 99,9% dei microorganismi. Studi indipendenti hanno dimostrato l'efficacia della radiazione UVC nell'inattivare virus come H1N1 e batteri. Il cuore dello sterilizzatore è una lampada ultravioletta C da 10 Watt. La porta in vetro contiene vetro temperato per evitare che i raggi ultravioletti vengano rilasciati all'esterno ed è resistente agli urti esterni. Un interruttore di sicurezza arresta il processo se la porta viene aperta accidentalmente durante la sterilizzazione. Per un comodo utilizzo, il portalibri semi-automatico facilita il tuo lavoro. Per maggiori informazioni visita www.booksterilizer.net o contattaci a mail-book2net.net www.booksterilizer.net Grazie a tutti